Dalla verità ad innamorarsi di Dio Non basta avere in mente né la verità né tutta la conoscenza possibile e immaginabile se a partire da quel silenzio interiore non vuoi incontrare e innamorarti di Gesù. Sì, dico vuoi, perché molto dipende esclusivamente dal tuo impegno e da quando vorresti davvero essere felice e possibilmente rinunciare ad un bene effimero. Per uno coerentemente maggiore, già a partire da questa vita terrena. Medita Gesù, immaginalo, mentre compie le sue azioni, mosso da pietà e con passione profonda guarisce, sana e converte verso una vita migliore. Dimmi, gioia mia, prova solo a immaginare una condizione umana prima di Cristo e prova a disegnare e progettare come era un sogno meraviglioso come vorresti che il creatore possa amare la sua creazione e l'uomo centro dell'universo, materia e spirito in un modo perfetto se non facendo in modo che egli stesso sposasse la sua creatura concependo da essa un figlio. Ecco che cos'è l'uomo, piccola anima mia in una frase essere capace di amare alla perfezione sì, capace egli è perché altrimenti non avremmo avuto Gesù il quale prendendo la nostra umanità l'ha glorificata e noi nutriendoci dell'Eucaristia suo cuore diventiamo per grazia, se lo vorremmo tempio della Santissima Treta per diventare seguaci di Cristo bisogna demolire tutto quello che potresti conoscere di Lui da parte del mondo dalla gente, della filosofia della storia persino a volte ciò non è semplice della tua religione infatti infinite e eterne errori compiono coloro i quali si convincono di conoscere tutto e abbastanza della religione e salto nei passaggi della misericordia e della compassione che la compongono da volta gioia mia i peggiori nemici li troverai proprio laddove vorresti trovare i fratelli cristiani la loro colpa è relativa perché seppure sono ignoranti dell'amore di Dio non hanno rinunciato in alcun modo a tale malizia troverai ecco in chiesa e io ho conosciuto anche i uomini di Dio così nel 95% dei casi gente cristiana per edità di famiglia o per un suo concetto mentale senza avere alcun amore intimo verso Gesù ecco perché difficilmente troverai veri fratelli tra coloro i quali si dichiareranno cristiani ma in giù non devi scandalizzarti se i credenti a volte sono peggiori dei pagani incapaci di testimoniare un amore ascoltato sì ma mai cercato per avere un amore intimo verso di lui bisogna trasformarsi restare e ritornare bambini citando Paolo di Tarso qualcuno ti dirà come non si deve restare ma diventare come bambini ovvero apprezzare anche le più piccole carezze donate da Dio alla nostra vita ma come molte delle teorie teologiche moderne altro non sono se non spesso semplicemente chiacchiere filosofico-razionalistiche le quali hanno smarrito la diretta corrispondenza nella vita devolta e mistica come un grande San Giovanni della Croce Insign ancora oggi ad esempio ti racconto la mia esperienza e capirai come si deve anche restare bambini i piccoli non appena raggiungono l'età della ragione dei 5-7 anni devono tradurre e convertire emozioni, sentimenti, pregiudizi e fede ad un livello superiore e quindi razionale tale ragione non sarà mai perfetta se non la si perfezione corregge costantemente per tutta la vita fino a che essa non giunge almeno al gradino di intuire la stessa realtà visibile e invisibile e la logica del creatore se un fanciullo di fronte all'esperienza concreta di un compagno diversamente abile incapace di prendere il proprio cappottino e di indossarlo alla fine della scuola mostra assoluta indifferenza lontana come una peste tale immagine triste ai suoi occhi e piuttosto non vede l'ora di ritornare a casa nella sua pace e rassicurazione familiare fare il bravo trovare abitudini e premi nei compiti ben fatti sarà sì un ottimo cittadino e anche un devoto cristiano tale da suscitare ammirazione in ognuno ma mai potrà giungere ad essere un figlio che ama Dio ci sono momenti e tappe nella vita storica di ognuno dove Dio ci pone davanti due vie se noi perseveriamo nella verità logica di cuore e spirito mente prima o poi egli si manifesterà a noi per aiutarci nel cammino e mostrarci tutto il suo immenso amore il buon Dio si può servire anche nelle più semplici persone per aiutarci in questo cammino e nel mio caso egli mi mostrò la pietà di mia madre che mossa a compassione ma con gioia profonda subito si fece prossima verso quel ragazzo ancora solo perché la madre ritardò ad andarla a prendere così mia madre lasciò me indisparte e coprì con il cappottino quel bimbo che con tanti sorrisi e commossi ringraziò mia madre per essere così premurosa all'inizio di impatto improvviso cambio di routine alla fine del mio orario scolastico un poco mi ha dato fastidio ma quello che hanno visto per la prima volta i miei occhi allora si è scolpito per sempre in un angolino del mio cuore nei loro sguardi una fiamma un fulmine di carità è schioccato e strafitto le mie midolla per la prima volta da quando ho memoria capirò in seguito lì rappresenta la stessa persona di cristo percepita da me come un bagliore uno sguardo un fuoco acceso d'amore restare bambini significa anche rifiutare ogni falsità del mondo questa è la risata grassa della maggioranza dei cristiani nei quali fu di farsi accettare dalla massa non rinunciano affatto ad uniformarsi non solo alle mode indecenti di questo tempo dove la prostituzione è la regola ma anche agli atteggiamenti mentali menzogneri scaturiti dall'abitudine della mente a concepire la malizia e la malvagità dalla attività della mente e dello spirito a cui ti invito a prendere parte è la più difficile sofferta ma anche una delle vie più fruttifere che potranno facilmente condurti alla verità e al dialogo con il vero Dio la verità è prima di tutto rinuncia a tutto ciò che è falso ma se persevererai in tale ricerca vedrai come molte volte ciò che magari per tutti anche per i cristiani sembra divertente e buono potrebbe invece allontanarti dall'unione con Dio rattristarti spiritualmente condurti lontano dal cammino sei pronta gioia mia a dimostrare all'amore quanto puoi e vuoi rinunciare per lui feste balli bevute e mangiate tra persone del mondo passate in minuti dallo spirito sei pronta a dire a colui che detiene le chiavi della felicità del tuo cuore eccomi rinuncio a cibarmi di spazzatura signore dammi tu il cibo vero capace di togliermi la fame per sempre saziandomi di così grandi delizi tali da vedere in tutto ciò che prima sembrava buono il veleno e ora dopo aver gustato il vero cibo tutto il resto è divenuto vanità mi chiederai allora dove come si rinuncia a questa falsità e io ti risponderò vi sono innumerevoli gradi di perfezione verso la vetta in dio e molti gradi di depravazione umana ma non sono tanti poiché dio ha posto il limite al peccato preferisco al peccato la parola errore miliardi di persone vivono senza mai avere capito chi sono quale sia il loro posto nel mondo se ci sia dio quale sia il senso della vita anime storte cresciute come bestiame capaci solo di pensare agli istinti al sonno e al cibo per questo nel cammino di perfezione cristiana spesso si preferisce vivere nel deserto interiore nella solitudine dove lui può parlarci liberamente piuttosto di adagiarsi nella triste ipocrita città degli uomini capace solo di umiliare lo spirito con le sue sporcizie verbali e morali e di renderci cattivi o semplicemente insensibili ecco perché tuo padre e tua madre per lunghi periodi della storia della propria esistenza hanno preferito vivere nell'isolamento dal mondo e quest'ultimo in quanto terra governata dal demonio conduce gli uomini a compilazioni inutili piuttosto che di avvicinarli in qualche modo a dio ed il mondo mai ha tardato con la sua forma mentis a giudicarci come scarti quindi a calunniarci per fare in modo che le nostre vite si conformassero il più possibile agli schemi mentali del tempo e delle abitudini ai vizi della massa seppure non li abbiamo mai accettati e abbiamo preferito la condanna all'ipocrisia io e tua madre non ci siamo mai fatti assorbire da queste nubi infernali del non senso e sempre abbiamo confidato nella verità e nella bontà di dio anche quando a volte essa era solo sotto forma di una voce nella coscienza e abbiamo piuttosto accettato l'insulto dell'ignorante e la solitudine alla rinuncia di avere il cuore pacificato con dio così facendo il nostro Signore stesso nel nostro deserto spirituale non solo non ha mai smesso di accompagnarci ma spesso egli stesso si è manifestato in modo da sostenerci e incoraggiarci nel cammino sempre siamo stati stranieri su questa terra amore mio vinci il mondo come noi l'abbiamo vinto prima di noi seppure a volte si cade però persevera lotta grida a lui se vuoi il cuore libero in pace amato ripieno di amore e se apparterrai a lui egli non tarderà a guidarti nel cammino lungo esso sarà gioia mia perché profondo e oscuro e il mare dove nascerai dovrai allora prima imparare a nuotare poi ad immaginare la luce del sole nella superficie dalle parole di coloro che ne hanno visto i raggi prima di te ma a te toccherà alzare gli occhi verso il cielo e abbandonare le profondità dell'abisso per innalzarti a contemplare il dolce calore di Gesù amore mio a nulla realmente le mie parole ti potranno servire se non ad indicarti la via della felicità mi ricorda bene il tuo maestro lo incontrerai dentro di te se vorrai la tua anima sarà sempre unita a lui se farai spazio dentro di te per una tale purezza di amore allora egli chiaramente ti parlerà impara perciò a rinunciare alla disperazione mascherata a divertimento e inizia a cercare la profondità dentro e fuori di te come si può essere cristiani in un mondo dove per sopravvivere dove dovresti essere furbo ladro il primo dei tuoi fratelli e rispondere al male ricevuto con violenza per conquistare rispetto e gloria gli stessi cristiani sappiano smarito completamente il senno per un semplice e chiaro motivo lentamente ma inesorabilmente assorbiti dai piaceri e sbaghi che il mondo moderno vende a poco prezzo tigù parchi divertimenti otterrati pub chiacchiere piscine si allontaneranno dall'intuizione e luce spirituale che lo spirito gentilmente soffia su chi pone la sua voce sopra ogni cosa i tuoi fratelli spirituali oggi non differiscono molto da chi non crede in dio essi non vogliono essere diversi dagli altri né sentirsi giudicati folli né stupidi e non hanno più tempo per stare con il signore sembra un assurdo ma è la differenza tra il vivere il vangelo o il prenderlo in giro una volta ebbe una discussione con uomini di chiesa sacerdoti e seminaristi i quali affermarono come oggi dio non potrebbe mai certamente mandare nel mondo santi come un san bernardo da corleone grande penitente del medioevo agile nel digiuno e nel procurarsi sofferenze fisiche in espiazione dei peccati poiché sarebbe ritenuto solo un pazzo il vangelo il vangelo deve per loro al contrario adattarsi al mondo per giungere al mondo in sostanza negarsi e dichiarare il falso discorso molto razionale ma privo di senso cristiano dio può mandare chi vuole nel mondo e quando vuole e pazzi erano ritenuti allora i santi e come folli sarebbero additati anche oggi pure questa è penitenza il punto è che i santi devono anche diventare pazzi perché il vangelo è follia ed è anche stupidità porgi l'altra guancia da a chi ti chiede se inizi un viaggio non portare nulla con te beato chi piange mi chiedo se la ragione umana sia davvero così impeccabile nel teologizzare se prende il vangelo come semplice letteratura giudicate voi dove vi è più stupidità ad esempio in due episodi opposti 1 San Bernardo dice di vivere il vangelo mortifica il suo corpo affinché non lo porti a peccato ritenendo fruttifico ciò Dio si manifesta a lui e lo esorta 2 un prete moderno prima della santa messa non lo trovi a confessare sul bito dei piaceri dall'innogente tv sta a guardare la partita dei pallone si annoia a confessare non prepara non prepara l'omelia e non medita su nulla Dio gli chiederà conto il punto è più vive nel mondo e più ciò che è spirituale di una logica superiore sembra stolt perché la stessa ragione si degenera abituandosi a logiche basse e adattandosi ai soli bisogni primari malati e perversi ed eliminando infine la saggezza e poi